La RTX 3060 è sicuramente una delle schede video più interessanti nella fascia medio-bassa attualmente presente sul mercato sia del nuovo che dell'usato e oggi andremo a scoprire perché. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Intendaro Pazzo. Oggi siamo qui con quella che dovrebbe essere la scheda video più popolare, almeno secondo il sondaggio dei Steam sull'hardware, cioè la RTX 3060. Scheda video uscita nel 2021 e davvero ambitissima, soprattutto poi durante il periodo del mining di criptovalute, sia dai giocatori che anche ovviamente dai nostri amici miner. Per il fatto che appunto le prestazioni che offriva, dato poi il suo TDP non elevatissimo se confrontato con le sorelle maggiori, davvero la rendeva una scheda molto molto interessante per il rapporto prestazioni per Watt. Prima di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale, attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui sul canale. Detto questo vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda il nuovo di hardware e videogiochi e l'altro per quanto riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per quanto riguarda la garanzia e l'assistenza e per finire vi consiglio anche di seguirmi su Instagram e sul mio canale di TikTok. Detto questo direi di tornare a parlare della 3060. Per questo video devo ringraziare il mio amico Marco Experiments perché è stato lui a vendermi questa RTX 3060 per conto di un suo amico, ma ecco anche lui ha un canale YouTube dove parla di hardware, insomma fa delle riprese poi eccezionali, quindi ecco se siete appassionati di questi argomenti vi invito a iscrivervi, trovate il link del suo canale qua sotto in descrizione. Tornando a parlare di questa scheda video vi ho già detto di essere uscita a inizio 2021 e vi ricorderete insomma che quello è stato un periodo abbastanza scuro per quanto riguarda l'hardware e in particolar modo le schede video visto che ci trovavamo nel pieno ecco del crypto boom dove ecco qualsiasi scheda video vi permetteva di minare e vi permetteva ecco di tirar su parecchi soldi e per questo insomma queste schede vennero subito targettate dai miners più che dai videogiocatori che magari non si potevano permettere prezzi folli per le schede mentre i miners ecco lo prendevano come un investimento per questo motivo soprattutto al lancio e nei primi primo anno e mezzo di uscita di questa scheda diciamo non era una scelta proprio tanto consigliata per chi voleva giocare dati costi veramente elevatissimi. Per chiudere la parentesi mining mi ricordo ancora produttori come Zotac sfottere i videogiocatori facendo vedere queste nuove schede appena uscite come la 3060 delle foto in cui mostravano dei mining rig pieni zeppi di queste schede ma proprio dai loro canali ufficiali scrivendo tipo ecco le nuove schede video da gaming quindi insomma non è stato proprio un comportamento bello ma quello da parte di nessun produttore all'epoca visto che bene o male tutti ci hanno voluto fare la cresta. Ma comunque questa è un'altra storia e oggi appunto ci concentriamo su questa RTX 3060 in particolar modo sulle prestazioni in gaming e in produttività è quello che effettivamente può offrire al giorno d'oggi. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questa 3060 ci ritroviamo nel core una GPU basata sul chip GA106 appunto la proposta di fascia media medio bassa di Nvidia per quanto riguarda l'architettura ampere appunto architettura presentata e uscita nel 2020 insomma per tutte le RTX 3000. Al suo interno sono sbloccati 3584 CUDA core con una frequenza in boost di circa 1800MHz per quanto riguarda questo modello di custom e un TDP che dovrebbe essere intorno ai 170W. Il tutto accompagnato da 12GB di memoria VRAM GDDR6 con un bus di 192 bit per un bandwidth totale di 360GB al secondo. E proprio questi 12GB di VRAM presenti in questa scheda furono molto controversi all'uscita per il fatto che già le schede vi ripeto costavano un occhio dalla testa e il fatto di metterci così tanta VRAM che all'epoca almeno era considerato un ottimo quantitativo anzi forse esagerato per la potenza di questa scheda venne visto ecco come forse più un regalo ai miner che ai videogiocatori. Però ecco al giorno d'oggi questi 12GB di VRAM considerando i giochi che sono usciti nel mentre il fatto poi che magari se andiamo a giocare a risoluzioni più alte con texture comunque molto elevate effettivamente ci vengono molto in aiuto tutti questi GB di VRAM per il fatto che appunto i giochi attualmente vanno a consumare veramente veramente tanta memoria. E per questo ecco la 3060 si trova in vantaggio in alcuni scenari anche rispetto alla nuova RTX 4060 che invece ha solo 8GB di memoria VRAM con tra l'altro un bus inferiore. Invece per quanto riguarda la customizzazione abbiamo qui presente la Zotac Twin Edge OC proposta di Zotac diciamo di fascia media per una 3060 non ci troviamo certo un dissipatorone triventola enorme come magari nel caso della Strix di Asus o la Vision di Gigabyte. Però ecco questo dissipatore dual slot con un connettore di alimentazione agiliare 8 pin e queste due ventole vi devo dire fanno un ottimo ma un ottimo lavoro perché questa scheda anche in condizioni a pieno carico con il TDP appunto a 170 Watt che è quello insomma che va a consumare poi questa scheda ci troviamo ecco delle temperature che sono intorno ai 60 gradi con una velocità delle ventole per nulla preoccupante perché abbiamo veramente una rumorosità che è praticamente nulla quindi davvero secondo me questa custom è veramente ottima per una 3060 questo basta e avanza e ciò vi permette anche di metterla in tantissimi sistemi mini ETX senza ecco dover fare salti mortali perché sì le dimensioni sono veramente ridottissime. Prima di passare ai benchmark ci tengo a fare ovviamente due parole sulla piattaforma di test in questo caso è la classica test bench composta da Ryzen 5 3600X 6 core 12 thread accompagnato da una B450F Asus ROG Strix per quanto riguarda la scheda madre e come RAM abbiamo due per 8 giga quindi 16 giga in totale di DR4 3200MHz CL16 come alimentatore abbiamo il WPW Gold Sharkoon da 750 Watt insomma questa è la test bench e ora direi di passare ai benchmark e poi alle conclusioni insomma alle considerazioni finali di questo video. E come primo test abbiamo Cinebench 2024 qui la RTX 3060 totalizza un punteggio di 8086 punti davvero niente male se confrontata ecco anche ad altre schede come vedete dal grafico su Blender Open Data 4.0 punteggio combinato 2306,30 punti anche qui niente male ma sappiamo ecco Nvidia essere molto in vantaggio soprattutto rispetto a AMD su questi benchmark e ovviamente anche su Blender BMW demo abbiamo un tempo di 13,14 secondi veramente molto basso come tempo di rendering appunto anche in confronto a schede Radeon e stessa cosa ovviamente anche per il benchmark della Classroom dove abbiamo un tempo di rendering più alto per il fatto che è più pesante di 28,98 secondi quindi quasi 29 secondi ecco sul benchmark di Geekbench fatto girare sulla GPU con OpenCL abbiamo un punteggio combinato di 91.899 punti quindi anche qua si difende comunque molto bene in applicazioni generali e su Octanebench abbiamo un punteggio combinato con RTX abilitato di 294,92 punti anche qui veramente per essere una RTX 3000 con questi bassi consumi va veramente forte Premiere Pro con il Puget System Benchmark vi dico questa sarà l'ultima volta che lo testo perché non è più possibile utilizzare e scaricare questo programma per i test quindi passeremo ad altri sistemi di benchmark comunque ecco il GPU score è 51,7 punti magari così potete confrontarlo con gli altri video insomma fatti sempre qui sul canale in passato per quanto riguarda la suite di benchmark di Specview Perf in Full HD vediamo sia la 3060 che la RTX A2000 e in alcuni casi vedete ecco dalla tabella va meglio una in altri per il fatto ecco che la A2000 è una scheda di tipo professionale della serie quadro va meglio ecco quest'ultima quindi qui sta a voi ecco in base al vostro utilizzo vedere quella che può essere più utile al vostro caso su Stable Diffusion per concludere con i benchmark di produttività abbiamo ecco dell'iterazione al secondo niente male perché sono 7,25 insomma anche qui la 3060 si difende molto bene per utilizzare l'intelligenza artificiale generativa e passando a Control in Full HD con settaggi di Digital Foundry abbiamo un average di 115 fps con un percento low di 83 quindi molto molto giocabile e in 1440p invece scendiamo a 74 con un percento low molto vicino ai 60 di 57 fps quindi davvero super giocabile anche questa risoluzione e se passiamo al Ray Tracing attivando però il DLSS a Quality abbiamo un average frame rate di 68,7 fps e un percento low di 51 quindi davvero giocabilissimo anche con Ray Tracing a La Week 2 Full HD DLSS Quality e Digital Foundry Settings abbiamo 72,5 fps di media e un percento low di 56,5 fps in 1440p sempre con DLSS e Digital Foundry Settings abbiamo 55 fps quindi per essere il gioco più pesante attualmente disponibile direi che non è per nulla un cattivo risultato e passando a Death Stranding gioco invece molto più ottimizzato abbiamo in Full HD un frame rate a settaggi maxati di 124 fps con un percento low di 96 quindi anche qui volendo possiamo giocare ad alti refresh rate in 1440p sempre settaggi maxati 95 fps con un percento low di 77 anche qui vediamo insomma ottimi risultati anche questa risoluzione comunque più alta di solito considerata ecco per schede più potenti in Fortnite capitolo 5 stagione 1 abbiamo in Full HD a settaggi medi 199 fps di media qui vi dico siamo anche un po' limitati dal processore e un percento low di 118 in 1440p 136 fps e un percento low di 57 e ovviamente i risultati ottenuti qui sono in DirectX 12 e anche qui per Fortnite veramente abbiamo ottimi risultati su God of War full HD settaggi alti 85 fps di media e un percento low di 63 quindi anche questo insomma gioco che comunque è molto pesante abbiamo ottime prestazioni e in 1440p stessa cosa manteniamo comunque la soglia sopra i 60 fps perché abbiamo 67,2 fps di media e un percento low di 54 e passando ora a Cyberpunk 2077 con settaggi di hardware unboxed in Full HD abbiamo 64 fps di media comunque in una delle zone più pesanti del gioco con un percento low di 38,8 fps in 1440p sempre settaggi di hardware unboxed abbiamo un average di 50 fps questo nativo ecco senza upscaling con un percento low comunque discreto e in 1440p DLSS quality stessi settaggi di prima ma con ray tracing a ultra scendiamo a 32 fps con un percento low di 25,8 fps The Finals full HD DLSS quality e settaggi medi con anche medio ray tracing abbiamo 100 fps per quanto riguarda il full HD con un percento low di 55 mentre in 1440 scendiamo a 77 fps in questo caso poi senza il DLSS quindi insomma ottimi risultati in full HD vi devo dire eravamo un po' cpu limited però comunque ecco più o meno le prestazioni sono queste e come ultimo gioco abbiamo Battlefield 5 in questo caso da RTX 12 full HD setaggi alti 158 fps e un percento low di 78 quindi veramente esperienza super fluida per un gioco che comunque è un po' vecchiotto ma comunque ha un'ottima grafica in 1440p sempre stessi settaggi 131 fps e un percento low di 70 detto questo direi di passare alle considerazioni finali ed eccoci qui ragazzi dopo aver visto i test di questa scheda che dire io sono rimasto veramente contento dalle prestazioni al di là di quelle diciamo dure pure rasterizzazione o comunque ray tracing anche dal punto di vista delle prestazioni termiche e di rumorosità perché veramente questa custom come vi avevo già anticipato praticamente offre tutto quello che uno può desiderare da una 30-60 cioè compattezza tutte le dimensioni vedete qua e una rumorosità veramente molto bassa che fanno sì ecco che questa scheda sia ideale anche per sistemi mini TX o comunque veramente molto compatti per quanto riguarda i giochi abbiamo visto ecco sia in full hd che in 1440p si difende molto molto bene soprattutto in 1440p mi sono stupito per il fatto ecco che questi 12 giga di vram in qualche caso vanno effettivamente a essere sfruttati e diciamo magari nei giochi più pesanti dove effettivamente il core di questa scheda video non riuscirebbe a spingere tantissimi fps abbiamo feature come il DLSS che ci aiutano ecco a raggiungere soglie di fps più che giocabili quindi davvero questa scheda pur essendo considerata di fascia medio-bassa ecco ci offre un livello di prestazioni che secondo me è veramente ottimo e dovrebbe essere considerato da molti videogiocatori ecco che stanno cercando una scheda video su questo budget budget di cui andremo a parlare subito dopo aver discusso le prestazioni in produttività che ha questa 30-60 sì perché oltre a gaming anche in applicazioni da workstation ecco questa 30-60 si difende molto bene soprattutto in rendering con applicazioni tipo blender abbiamo visto prestazioni superiori per esempio a molte Radeon anche di fascia ben più alta questo diciamo è abbastanza la normalità perché qui ecco Nvidia ha un bel gap prestazionale in più rispetto alle Radeon però ecco anche in altri applicativi insomma questa scheda soprattutto considerando i 12GB di VRAM può essere un'ottima alternativa se volete costruire una workstation che non vi costi ecco un patrimonio poi ci sono comunque ecco degli ambiti che potete poi andare anche a confrontare con risultati di altre schede online in cui magari ecco sono preferibili altre schede video come schede video professionali o appunto in alcuni casi anche qualche Radeon potrebbe andare meglio però in generale secondo me ecco questa è un'ottima scheda se siete delle persone che fate un po' di tutto magari giocate e volete anche per esempio utilizzare delle applicazioni produttive come ripeto blender o anche appunto editing video questa scheda secondo me anche per codifica decodifica video è eccezionale non presenta ok la codifica AV1 presente nelle schede di nuova generazione però ecco diciamo potrebbe essere un buon compromesso soprattutto se andiamo a trovare usata a prezzi che andiamo a vedere fra un momento sì perché passando alla domanda fatidica che cerco di fare più o meno in ogni video quindi vi consiglio questa scheda video nel 2024 secondo me sì in linea di massima sì per il fatto che attualmente come prezzi siamo messi veramente bene se nel 2021-2022 questa scheda video veniva sconsigliata in favore di schede video Radeon per esempio come la RX 6600 o di vecchia generazione come la 5700 XT attualmente ecco si trova in una posizione del mercato veramente molto interessante perché usata si può trovare intorno ai 200 euro a volte anche un po' meno mentre nuova dovete essere un pochino più fortunati dovete trovare un po' l'occasione ovviamente una scheda che attualmente non dovrebbe essere più in produzione quindi comunque quelle che trovate rimaste sono gli ultimi stock però la dovreste poter pagare intorno ai 250-280 euro nuova ecco se trovate intorno ai 300 c'è da considerare ovviamente la scheda video di nuova generazione cioè la RTX 4060 che ripeto però dal punto di vista delle VRAM non è messa così bene tanto quanto questa perché in quel caso ci troviamo una scheda che ha un bus di 128 bit con solo 8 giga di memoria VRAM poi ecco magari le prestazioni effettivamente del core sono migliori rispetto a questa però ecco se la VRAM comunque è un aspetto a cui ci tenete potreste preferire proprio questa 3060 e se siete arrivati fin qui io non posso far altro che consigliarvi due video che se non avete visto vi invito a guardare il primo è quello della diretta rivale della RTX 3060 per quanto riguarda AMD cioè la RX 6600 video di qualche mese fa insomma che vi mostra le prestazioni più o meno negli stessi ambiti e il secondo video invece è quello su una scheda video professionale a ridotti consumi come la RTX a 2000 scheda video praticamente identica a questa 3060 ma col fatto di avere 6 giga di VRAM e un TDP di soli 75 watt detto questo è veramente tutto fatemi sapere qua sotto se vi è piaciuto questo video con un bel mi piace e con un commento se anche voi avete avuto o avete ancora questa 3060 e niente detto questo io vi ringrazio come sempre per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti